E adesso abbiamo due giovani protagonisti, lui viene dal Brasile, da San Paolo, tutto ben? Benvenuto a chi? E poi a sinistra abbiamo la sua amica, e adesso inizia la loro prova. Osservate l'energia che proviene dai muscoli, sembra uscire da un vulcano, il famoso vulcano giapponese. Ed ora, il clou della prova, sono passi che si ispirano agli animali mitologici del Giappone antico, cioè il drago. Ed ora, quante volte abbiamo visto queste movenze nei film di Bruce Lee e di Jackie Chan? Dal 3 settembre potete rivederli miscelati ad una storia indimenticabile con Karate Kid, la leggenda continua. E facciamo un applauso al nostro amico brasiliano e alla sua amica.